Salve a tutti, oggi parliamo dell'ILS, un'importante associazione, associazione italiana lotta alla sclerodermia ONLUS. E abbiamo con noi la signora Paola Mutti, consigliera IELS, grazie di essere presente. Grazie a lei dell'invito, buongiorno a tutti. E abbiamo il dottore Enrico Tombetti, medico specialista in allergologia ed immunologia clinica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Grazie, buongiorno. Partiamo subito spiegando cos'è IELS. IELS è un'associazione ONLUS che è nata nel 2002 per volontà di alcuni pazienti naturalmente affetti da sclerosi sistemica, come sol dirsi sclerodermia. È un'associazione che è presente su tutto il territorio italiano e l'IELS con i suoi volontari svolge un'attività sociosanitaria offrendo ai malati e da loro familiari un sostegno psicologico, fisioterapico, un sostegno in genere, aiuta nelle pratiche di invalidità e ha una consulenza legale. IELS è impegnata nella ricerca, tant'è vero che quest'anno abbiamo in... Avete in cantiere un progetto molto importante. Di cosa si tratta? Si può dire? È un progetto di ricerca che vede alcune università in prima battuta e comunque poi quando avremo dei risultati e delle specifiche faremo una conferenza stampa. Diciamo già che voi siete molto molto attivi sul territorio, fatti quindi ricerca e assistenza e tutta una serie di interventi anche relativi alla formazione e all'informazione corretta delle famiglie e dei pazienti. Esatto, noi divulghiamo la nostra... come si può dire? Il nostro principale scopo è quello di divulgare la malattia in maniera corretta. A proposito di malattia, passo a lei dottore, ci spieghi esattamente della sclerodermia che cos'è? Dunque, in estrema sintesi, la sclerodermia è una malattia autoimmune, ossia una condizione in cui per cause non del tutto chiarite il sistema immunitario che normalmente ci difende dai microbi attacca alcuni costituenti del nostro corpo causando danno. Nel caso della sclerodermia questo danno è particolarmente evidente a carico di due strutture. In primo luogo i vasi, quindi c'è una vasculopatia sclerodermica, quindi per esempio fenomeno di Raynaud, ulcere cutanee e dall'altro canto c'è una sostituzione dei tessuti in senso fibrotico con un espessimento, una fibrosi, una sclerosi che poi dà il nome alla malattia, quindi sclerodermia quando è a livello cutaneo, ma siccome interessa anche vari organi, il cuore e il polmone in primis, sclerosi sistemica. E questa puntata vuole proprio approfondire. Quali sono i problemi polmonari nella sclerodermia? Allora, grazie per la domanda. I polmoni polmonari sono molteplici ed eterogenei come la malattia, perché possono essere colpite varie strutture all'interno del polmone. Noi possiamo immaginare il polmone come una spugna che è continuamente strizzata e rilasciata in modo da ricambiare l'aria al suo interno, dentro cui scorre del sangue per trasferire i gas. Entrambe le componenti possono ammalarsi. Quando si ammala la spugna, per così dire, abbiamo la fibrosi polmonare, ossia un polmone che è rigido, che ventila di meno e che più difficilmente scambia gas con il sangue. Quando si ammala il circolo polmonare e quindi c'è un flusso difficoltoso all'interno del polmone, abbiamo la cosiddetta ipertensione polmonare, che può essere dovuta a varie cause. Come si possono curare? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la fibrosi polmonare, dobbiamo dire che non tutti i malati richiedono una terapia, perché la maggioranza dei pazienti ha delle forme benigne non evolutive. Quando la terapia è indicata sulla base dell'attacca, dell'evolutibilità e delle prove di funzionalità respiratoria, si basa essenzialmente sugli immunosoppressori, per esempio la ciclofosfamide. Per quanto riguarda l'ipertensione polmonare è fondamentale una diagnosi corretta, cioè distinguere le varie forme di ipertensione polmonare. Nel caso la componente malata siano i vasi che portano sangue a polmone e quindi l'ipertensione polmonare prenda il nome di ipertensione arteriosa polmonare, esistono tutta una serie di farmaci come i vasodilatatori polmonari. Ecco, grazie per queste delucidazioni. L'AILS è molto attiva per la ricerca e per l'assistenza della formazione e cerchiamo di aiutarla. Ecco in sovreprensione il sito www.ailss.it. Grazie per averci seguito, grazie agli ospiti e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.